Il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ha scritto una lettera all'assessore alla sanità della regione toscana Simone Bezzini e al direttore generale della ASL Toscana Sud-Est Antonio Durso, contenente la specifica richiesta che la direzione oncologica di area vasta resti ad Arezzo ed espressione di una professionalità del territorio. La lettera parte dal pensionamento del dottor Enrico Tucci, direttore della radioterapia e capo dipartimento di oncologia. Prende atto delle legittime aspirazioni di professionisti di altre province ma giudica penalizzante e divisiva ogni eventuale decisione che escludesse Arezzo. Negli equilibri di area vasta, prosegue il vice sindaco Lucia Tanti, oncologia è sempre stata assegnata ad Arezzo, che ancora oggi è in grado di esprimere nomi di altissimo profilo degni di aspirare a questo ruolo. Non stiamo facendo un ragionamento su chi andrà a ricoprire l'incarico, questione di natura eminentemente meritocratica che vivo con assoluta neutralità, ma un ragionamento di metodo e di merito. Una scelta extra retina non solo aprirebbe la strada ad un evidente disequilibrio, peraltro il rituale, ma sarebbe letta e vissuta come un elemento di sfiducia nei confronti dei nostri professionisti. Arezzo conclude Tanti con la storia ed il valore acquisito e riconosciuto dei suoi medici non merita ulteriori declassamenti e mortificazioni.